1105 giorni dopo l'ultima volta, era il 2 dicembre del 2018, la Trentino Volley torna a salire sul podio iridato. I vice campioni d'Europa hanno infatti concluso con una vittoria che gli è valsa la medaglia di bronzo il proprio cammino nel mondiale per club, avendo la meglio in tre set dei brasiliani del Fumvic. In questo torneo la società di Via Trainer può vantare un palmarès d'eccellenza, nove partecipazioni, 5 vittorie e 3 terzi posti. Dopo la sconfitta in semifinale con Civitanova i ragazzi di Mister Lorenzetti hanno voltato pagina mettendo in campo le stesse qualità ammirate nella tirata sfida contro i cucinieri. Ottima la prestazione a muro con 15 punti racimolati in 3-7 e in difesa. A rifinire il tutto per confezionare un successo per 3-0, mai veramente in discussione, ci hanno poi pensato Capitan Kazischi, autore di 18 punti, La Via, anche lui a quota 18, e Micheletto che ha terminato il match in doppia cifra. Segnali importanti anche in vista del ritorno in Italia dove ci sarà subito da confrontarsi nuovamente con Champions League e Superliga. Siamo molto felici di questa medaglia di bronzo nonostante la finale era un passo, però per la mia squadra, per il mio club è tanta roba. Siamo molto felici di tornare in Italia con una medaglia in più al collo. Penso che il gioco espresso è stato a tratti molto buono e dobbiamo cercare di renderla ancora migliore perché adesso ci aspetta le ultime due del giorno d'andata, poi tutto il ritorno della Superliga e poi il giorno di Champions League, quindi il livello si alzerà. Dobbiamo tenere questo livello e come ho detto prima cercare di limitare i nostri bassi perché ce ne sono parecchi, però è stata un'esperienza molto utile per questa squadra giovane che è cresciuta parecchio. Non vediamo l'ora di scendere in campo, di tornare a casa, anche riposare qualche giorno perché è stato veramente un tour de force, però come ho detto prima siamo molto contenti di tornare a casa con una medaglia in più. È chiaro che quando arrivi lì poi guardi che ci sono anche altre medaglie di altro colore magari ci poteva arrivare e aggiungere alla soddisfazione e alla felicità, però penso che un anno e mezzo di lavoro e raggiungere questi risultati non scontato possono dare soddisfazione a me e penso anche alla società.